Pedro, in che anno sei nato? 1979. Bene, in che anno siamo ora? 24. Io ho messo il metro a 224 che è l'anno di oggi. Tu sei nato? 79. 79, 179 che praticamente hai 45 anni. Sapevi? Io sono nato nel 1971, quindi 171, ho 53 anni. E qui come ti ho messo? A un metro? A 2 metri e 24. 2 metri e 24. 2 metri e 24, 1971, 53 anni. Certo. Per esempio se oggi siamo nel 2030. 2030, oggi forse il 2030, io praticamente aggiungi sei anni, ad oggi 71, ne ho 60, 59, dai, a vedere un po'. No, 2030, eccolo qua. 2003, 71, 59. Ma senti, va, che cazzo. fenomeno. Non fa tornare, c'è qualche domanda. Bene.